Musica Eccoci giunti alla settima edizione della settimana del benessere psicologico in Campania, un evento nato per avvicinare cittadini e istituzioni al mondo della psicologia. Nel corso di questi anni abbiamo riflettuto insieme su temi di interesse generale che accomunano sia i cittadini che gli psicologi che le istituzioni. Abbiamo istituito moltissimi eventi durante i quali ci siamo incontrati e abbiamo messo a punto delle riflessioni comuni. Quest'anno rifletteremo sul tema del cambiamento e della partecipazione, temi molto attuali che ci vedono impegnati nella costruzione di modelli di intervento per quel che riguarda gli psicologi, ma anche di riflessione per quel che riguarda il mondo della politica, su come poter partecipare alla vita pubblica tenendo conto delle necessità di ciascuno. Note di benessere è il concerto che si terrà il 7 novembre a partire dalle 20.30 nel Teatro di Corte di Palazzo Reale. Partecipiamo per costruire il benessere psicologico di tutti noi.